Prosegue fino al 7 ottobre alla Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino la mostra Il Piemonte sui piatti, curata dal collezionista Piero Gondolo della Riva. All'esposizione, che raccoglie una sessantina di piatti decorati, risalenti a 700 e all'800, che portano impresse vedute di Torino e del Piemonte, si affiancano alcune conferenze. Il prossimo appuntamento è per il 28 settembre alle 17, sul tema Terre preziose, la maiolica turinese nel XVIII secolo.